Buongiorno a tutti, sono Riccabone Giuseppe, lo chef del Vescovado di Noli. Oggi andiamo a preparare una ricetta molto semplice ma con degli ingredienti molto importanti. Abbiamo una triglia di scoglio con olio, aglio e peperoncino, ricci di mare e piselli. Il tutto preparato con olio dope della riviera Ligure. Adesso andiamo a comporre il piatto. Andiamo a sistemare sul fondo del piatto, come vi dicevo, la nostra emulsione di ricci di mare. Andiamo a disporre la triglia. Prendiamo i nostri piselli praticamente al naturale perché è stata fatta una cottura molto molto veloce. Prendiamo il nostro olio e andiamo ad agiarli sul piatto. Abbiamo utilizzato la pelle dei piselli, l'abbiamo fritta e l'abbiamo fatta essiccare rendendolo una polvere. Per ultimo andiamo ad aggiungere quella nota di piccante che è dato dall'olio con l'aglio e il peperoncino. Eccoci qua. Allora oggi abbiamo confezionato questo piatto. Triglie, aglio, olio e peperoncino, ricci di mare e piselli. Il tutto preparato con olio dope della riviera Ligure. Grazie a tutti.